Bene amici, video flash, come flash è il messaggio che arriva dai social ufficiali IMSS, Twitter e Facebook. L'istituto infatti conferma come nel giro dei prossimi due mesi i trattamenti pensionistici passeranno da una rivalutazione per equazione del 2,2% che è un indice che abbiamo raggiunto sapete grazie all'anticipo della rivalutazione 2022 e al conguaglio di quella 2021 ad un aumento per equativo completo proprio a gennaio 2023 quando appunto scatterà la rivalutazione per tutti diciamo per tutti i trattamenti sulla base ovviamente degli indici dell'inflazione di fine anno per questo pazzo no è tormentato 2022 a giorni dunque avremo l'indice istat si parla sapete di percentuali vicine o addirittura superiori all'8% che porteranno di conseguenza a incrementi più o meno rilevanti nella vostra busta nel vostro cedolino della pensione ovviamente aumenti in percentuale sulla base del vostro importo lordo di trattamento. IMSS ci ricorda infatti che la per equazione o valutazione delle pensioni è un meccanismo di scala mobile che serve proprio ad adeguare in percentuali trattamenti pensionistici e anche quelli assistenziali tra l'altro adeguarli a cosa al costo della vita proteggendo così il loro potere d'acquisto. Certo con un'inflazione reale quasi al 12% diciamo che si dovrebbe fare molto di più almeno per aiutare i più fragili. Come sappiamo però dalla Nadef aggiornata dal nuovo governo, dal nuovo governo Meloni, non sono arrivate notizie positive su questo fronte purtroppo quindi bisognerà farsi bastare la solita e mai sufficiente per equazione. Detto questo iscrivetevi al canale per sapere rimanere aggiornati e sapere ovviamente immediatamente il tasso ufficiale di rivalutazione appena uscirà. Detto questo io vi saluto video flashissimo spero sia stato comunque interessante se così non scordatevi un bel like. Noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Un abbraccio da Mr. Lul